L'anno prossimo 150 bambini schitani avranno una nuova scuola materna all'Acquameno, la conferenza dei servizi speciale e la struttura commissariale Sisma Ischia 2017 hanno infatti concluso ieri l'iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento. L'Agenzia del Demanio in qualità di stazioni appaltante procederà all'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della scuola la cui consegna è prevista entro il 2025. Il progetto elaborato dalla struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio con la collaborazione di professionisti esterni è stato eseguito secondo i più moderni modelli di sostenibilità energetico-ambientali, gli standard ESG adottati dall'Agenzia e nel rispetto della normativa sismica. L'intervento che ha l'obiettivo di integrare l'opera architettonica con il paesaggio circostante si configura come un'iniziativa di rigenerazione urbana e prevede la creazione di una piazza per la collettività e la riqualificazione di un fabbricato da destinare ad attività culturali. Per la cronaca l'immobile esistente sul sito acquisito al patrimonio pubblico nella zona antistante all'ospedale Rizzoli prevede la realizzazione come detto di un corpo di fabbrica principale adibito a scuola materna che si svilupperà su due piani fuoriterra per una superficie lorda totale pari a circa 1317 metri quadrati e il recupero del fabbricato rurale attualmente in disuso ed in pessimo stato di manutenzione da destinarsi a centro culturale. Il lotto di intervento è caratterizzato da un apprezzamento di terreno di circa 4270 metri quadri.